su un pianeta lontano chiamato pianeta papalla nato due super eroi super omen e super shura in grado di sconfiggere i nemici qualsiasi tipo di nemico e furono scelti per proteggere la terra super shura super omen il mio nome è barbara io mi chiamo bottom man sono jeremy wade loro sono super hero family la lotta fra bottom man e nano zardan è arrivata ad altri livelli mi avevo prescritto una dieta da 1200 calorie ma lei non l'ha rispettata e ora mi toccherà operarla di nuovo quello che ho visto prima era solo un assaggio ora la attaccherò senza pietà ci darò dentro vedrà che cosa le combinerò sei pronto dottor? te ne faccio passare io la voglia di farmi dimagrire pronti attacco gigantesco la cosa non finisce qui anche se sono piccola l'attaccherò calcio il sederino calcio non me lo ricordo pugno nello stomaco non c'è niente da fare oh mamma aiuto morirò incredibilmente bottom man vince contro nano zardan e ora lo scontro che tanto aspettavamo super omen contro root man lo scontro finale finalmente saprà iniziale o forse no to 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 becati questo tiè io sono root man e tu super omen non mi fermerai arrivo root man finalmente siamo arrivati alla resa dei conti ora ti chiedo di lasciare in pace questa terra fai il bravo avanti arrenditi super omen io non mi arrenderò mai hai capito io sono pronto a darti battaglia preparati root man calcio la budina marcio ma preparati root man ma rieccomi qui questi sono i 100 colpi non mi hai fatto proprio niente e tu pensi che con questi colpi mi fermi? preparati allora questo è il mio colpo più devastante come finirà ora la prossima puntata? ecco se la caverà super omen? lo scopriremo tutto lo scopriremo tutto al settimo e ultimo forse episodio super hero family continua